Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV per la nostra vostra rassegna stampa tra poco per affrontare il tema delicatissimo del razzismo, ci hanno segnalato questa simpaticissima scenetta tra un cagnolino bianco e uno nero che si vogliono bene, si curano e si accudiscono per capire e dimostrare che spesso gli animali sono più umani degli umani, ci arriveremo, parliamo degli insulti razzisti, è una ragazzina di 15 anni che è stata presa da un adulto epitetata con mangia banana, è una roba che fa venire i brividi. Lo sport, quello che racconta invece le gesta sportive, peccato per la lube, iniziamo da qui, notizie locali, delusione, la Supercoppa sfugge di mano, avanti 2-1, Civitanova butta via il vantaggio nel quarto set, Perugia riesce a pareggiare e strappa poi la vittoria al tie break, non è mai finita finché non è finita nello sport, soprattutto nel pallavolo, complimenti a Perugia, questa volta l'hanno spuntata loro in questo duello che dura oramai da quasi un decennio. I nostri titoli, ogni santi ai fiori non si rinuncia nonostante i rincari e la crisi economica, specie nei giorni dedicati al ricordo dei difunti, abbiamo notato come siano aumentati e di tanto i prezzi dei fiori. Morto per l'esalazione di monossido, il tecnico della caldaia finisce a processo. Aveva eseguito lavori di manutenzione sulla caldaia proprio il giorno prima del dramma, il tecnico anconetano di 37 anni che dovrà affrontare un processo per omicidio colposo per la morte di Giorgio Paladini, 79 anni, morto per l'esalazione, nel suo appartamento di via Cupra Montana il 12 marzo del 21. Erano finiti all'ospedale intossicati anche la moglie dell'uomo e il figlio. Qualcosa evidentemente nella caldaia non andava, proprio il giorno prima c'era stato il controllo. Porto Nuovo, tra un tuffo e un pranzo, la baia splende al sole di novembre. Questo è un servizio che trovate sul nostro sito, godetevelo anche perché, e godetevi anche oggi se potete, il mare, la baia, le baie in generale, non solo quella di Porto Nuovo, dove vi pare, perché poi da venerdì la musica cambia. Allora, prima di tuffarci sui titoli dei giornali, oggi in edicola, è che alla venerdì 4 piove e guardate le temperature, soprattutto più che la pioggia, giustamente mi segnalava un messaggio, guarda la colonnina delle temperature, sì, è crollonetto, è fisiologico, è doveroso che accada questo, di 7-8 gradi in meno da oggi a dopodomani. 16-18 gradi le temperature questo venerdì, sabato 5 altrettanto, pioggia diffusa su tutte le marche e pure qui temperature tra massime, tra 16-18, guardate le minime anche a 8 gradi, roba che non provavamo oramai da un anno e passa. Domenica 6, stessa situazione, recupero delle minime che non saranno su 8-9 gradi, ma 12-13 e le massime che si attesteranno tra i 16 e i 19, quindi calo delle temperature e pioggia. I giornali, oltre alle notizie, quelle che più impattano in primissimo piano per lo sport, nella città e nella zona di Macerata il piano sosta con la partenza soft scattano da oggi gli aumenti per gli abbonamenti, ma nelle strutture e in strada ancora tutto fermo, manca la segnaletica, anche in piazza resta il disco orario, quindi si può andare gratis anche oggi a parcheggiare in piazza. Calche in discoteca, questa in tanti l'hanno commentata, c'è anche un papà che ci ha chiamato e ci ha detto mio figlio era lì alla festa di Halloween, ma la calca, la mancanza di aria, la sensazione di soffocare, il panico, che paura dicono i ragazzi, ma risponde il gestore del MIA, capienza in regola. Chi era lì ha ripensato a Corinaldo, questo è il racconto che trovate sul giornale. Stadio della Vittoria, Marchiori annuncia il lavoro per gli spogliatoi, a Macerata ancora Marco Simonacci, ucciso da un malore, si trovava in Ispiaggia, in Spagna purtroppo per lui un viaggio che sognava da tempo e poi eccola qua, ne abbiamo anche parlato con un servizio la baby calciatrice insultata, sono più forte dei razzisti. Da Macerata ad Ancora, poi i giornali nazionali, perché la questione dei rave pari, la questione delle bollette, quando arriverà dal governo Meloni il tanto atteso e agognato provvedimento per le bollette, ne parlerà il consiglio dei ministri di venerdì. Sosta caos, multe record, siamo invece già ad Ancona, il centro assediato dalle auto, posteggiate ovunque, in media i vigili staccano 105 sanzioni al giorno, siete tra quei 105 al giorno? Non ve lo auguro. Si corre troppo, sempre ad Ancona, 12 mila stangati dai Velox. La comandante Rovaldi, la comandante della Polizia Municipale, chiede di usare i parcheggi scambiatori, così evitiamo traffico, caos, arrabbiature e multe soprattutto. L'estate è infinita, eccola qua, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare a mostrare, non credo, magari le cose chiare, perché con il tempo sì, tiepido, ma non so se tanto da andare proprio in costume. Io guardate, su questo voglio essere molto chiaro, andiamo a goderci il video, va. Siamo al 31 di ottobre, ma sembra veramente il primo di maggio, l'inizio della stagione estiva, invece grazie a questo lunghissimo colpo di coda dell'estate sono ancora tante le persone che scelgono, approfittando anche del lungo ponte del primo novembre, di trascorrere queste bellissime giornate di sole e riva al mare, la baglia di Porto Novo si riempie tra turisti e locali. Siete qua in vacanza? No, siamo nella zona. Siete venuti qua per la bella giornata di sole? Sì, esattamente, esattamente. State approfittando anche, immagino, dei giorni di vacanza per fare ponte? Eh, oggi c'è il ponte, quindi approfittiamo. Sono belle giornate, insomma, quasi un colpo di coda dell'estate inaspettato. È vero, è vero, così oggi ci godiamo un po' Porto Novo. Scusate, siete qua in vacanza? No, siamo nel posto. Vi aspettavate giornate così belle, così lunghe? Sinceramente sì, ci speravamo, però ecco, ci ha fatto una bella sorpresa la stagione. Avete approfittato di queste giornate di sole per l'ultima zintarella? Ci veniamo sempre, anche a dicembre, metà febbraio, facciamo il bagno. Questo qui c'è proprio un microclima particolare dove si sta sempre più o meno bene. Io le ultime giornate stavo tutto l'anno qui. Però sono belle giornate queste, ve le aspettavate così tanto, visto che venite sempre? Gli altri anni facciamo sempre un microclima al bagno fino a novembre, primi dicembre. Finché c'è sole c'è speranza? Assolutamente, finché c'è un filo di sole subito, noi ne approfittiamo. E dopo un po' di riposo al sole e un tuffo in mare, c'è anche chi ne approfitta per un pranzo con vista a Baia, approfittando dei pochi locali che sono ancora aperti. Quest'anno verrebbe da dire una stagione che non finisce mai? Sì, dai, quest'anno sì. La natura, il clima fa la differenza. Chi vi viene a trovare ancora? Sia locali ma avete anche turisti? Sì, in questo periodo con il ponte dei morti ci sono molta gente di fuori. Questo capitava anche negli anni scorsi. Chiaramente se c'è bel tempo la gente approfitta di questo ponte. Questo periodo anche in mezzo alla settimana e il fatto stesso che ci sono tre hotel aperti, quindi dà la possibilità a qualche meeting, qualche convegno, un po' di gente che viene, quindi questo tutto fa brodo, diciamo. Tutto fa brodo, anzi brodetto verrebbe da dire, visto che siamo in Ispiaggia, Ponte dei Santi magari chiamiamolo, piuttosto che Ponte dei Morti. Mi piace di più dei Santi. Un abbraccio e un saluto a Marcello. Ecco qua il mare di Civitanova, ci mandano un messaggino, grazie così per par condicio facciamo un pochettino il giro di tutte le marche. Crisantemi e Ceri, prezzi alle stelle. Torniamo ai giornali, cimiteri salasso, non solo, c'è anche la questione del pane e della pasta aumentati, poi vi spiego. Doppia aggressione, i burli sono padroni di Piazza Roma, questo racconta il giornale. C'è davvero da preoccuparsi a mandare ragazzine e ragazzini in giro per il centro? Punto di domanda? Io sono stato in questi giorni in centro con la famiglia. No, non c'è una situazione perché a leggere questi articoli, questo è il mio pensiero, per carità voglio salutare intanto le forze dell'ordine che io ho visto a presidiare, a girare, ad essere presenti fisicamente, questo sì, non è un Bronx, non è una rissa dietro l'altra, certamente bisogna fare attenzione. Però io ho girato sia il giorno di Halloween con un'allegra famiglia, ho visto anche esercenti regalare le caramelle col sorriso in centro ad Ancona, in barba a tanti che dicono che sono un po' burberoni quelli che lavorano in certe città. No, no, c'ho anche una foto, ve la dedicherò tra poco. Addio Franco Borghi, restiamo un attimo ad Ancona, pioniere del basket, in Serie A con la Stamura, tanti messaggi di cordoglio. Poi la storia della baby calciatrice, insultata, ma dice sono più forte io dei razzisti. Complimenti per questo messaggio che ci insegna, una ragazzina che insegna anche ai presunti grandicelli. Con la guerra del grano, in Ucraina pane e pasta diventano beni di lusso. Qui siamo ad un tema che abbiamo affrontato venerdì, quando vi abbiamo raccontato di quattro navi russe che il giorno prima erano state bombardate. La decisione della Russia di conseguenza è sospendere l'accordo sulla circolazione del grano. Questo che cosa determina? Purtroppo inevitabilmente l'aumento dei prezzi, l'ulteriore aumento dei prezzi. Coldiretti calcola un'impennata del 24% sulla farina ed un aumento di 650 euro nel carrello della spesa. Guardate le cifre, l'impatto sui prodotti, gli incari legati alla guerra, l'olio di girasole per esempio, più 60,5%, la farina più 24,2%, la pasta 21,6% di aumento. In totale spenderemo solo per il carrello, non si parla di bolletta, non si parla d'altro, 650 euro di aumento, solo per il manier. A proposito invece delle necessità cui il governo dovrà fare fronte, il governo Meloni, saluto intanto Mirella, vi avevo promesso qualche dettaglio sulla questione del Consiglio dei Ministri, nel quale si dovrebbe affrontare proprio il tema delle bollette. Eccolo qua. Le contromisure del governo sul piatto, 30 miliardi di aiuti. Venerdì si terrà il Consiglio dei Ministri, il terzo dell'era Meloni, nel quale si parlerà appunto delle bollette. Fra le ipotesi, un altro bonus, una tantum, da 150 barra 200 euro per dipendenti e autonomi. Quindi il governo Meloni cosa farà per aiutarci a pagare le bollette? L'ipotesi è un provvedimento del tutto simile a quello che aveva messo in campo Draghi. Non poteva andare meglio, temperature miti, a ottobre non si vedevano da anni, questo dice il giornale, ha evitato l'inizio dei consumi un pochettino più acceso per l'energia. Però la gelata dei prezzi non durerà in eterno, prima di tutto perché tra pochi giorni si accenderanno i riscaldamenti inevitabilmente. Poi perché anche le imprese dovrebbero tornare a marciare con un ritmo più intenso. Quindi come fare per aiutare le aziende e le famiglie? Allora la legge finanziaria, la legge quella di bilancio, quella che come in famiglia si fa la conta di quello che si potrà fare l'anno prossimo. Allora potremmo andare in vacanza, sì, no, quanto budget abbiamo. Potremmo comprare la macchina nuova, sì, no, quanto budget abbiamo, eccetera. Insomma, così come nelle famiglie i governi fanno questi calcoli, si chiama legge di stabilità. Allora, la legge andrà approvata entro il mese con un pacchetto di misure contro il caro bollette che potrebbe arrivare fino a 30 miliardi di euro, i due terzi dell'intera manovra. Al Ministero dell'Economia le bocche ancora restano cucite, ma appunto è ipotizzabile che si faccia un altro aiutino da 150-200 euro. Non strutturale, ma un altro bonus, diciamo così. Che cosa ne pensate? 349-398-169, fateci sapere. Sono d'accordo che il sole e il bel tempo comportino turismo e positività. Concordo che ci concedano un risparmio di gas, ma vedere queste esagerazioni al mare in spregio ai danni climatici e biologici mi fa pensare che l'umanità ha ciò che si merita, ci dice Saverio. Grazie Saverio per questo tuo pensiero, così commenta la tintarella di queste amiche amici che abbiamo visto andare al mare. Insomma, ci sta, dai, se il tempo è quello uno va al mare. Certo, non bisogna sfuggire al problema del climate change, cioè del cambiamento climatico. Torniamo ai giornali locali. Ascoli e San Benedetto, impianti sportivi ok ai gestori. Le associazioni aggiudicatari e li terranno fino al 31 agosto del 2024 e potranno anche programmare, garantita, l'attività in palazzetti, campi di calcio e nel complesso dell'atletica leggera bracciolani. Monte Piselli, siamo a parlarvi di montagna, di neve marchigianamente parlando. C'è un finanziamento della regione Abruzzo sul Monte Piselli che è al confine 3 milioni di euro per la funivia e questa è certamente una buona notizia. Di spalla trovate la rabbia degli imprenditori marchigiani. Perché? Che è successo? Perché a fine settimana scorsa c'è stata la nomina di viceministri e sottosegretari. Che cosa è emerso? Anche questa volta restiamo ai margini. Le Marche non hanno avuto, se non un sottosegretario all'economia, Lucia Albano, praticamente neanche un minimo riconoscimento in seno al governo. Ancora notizie, il Comune rivede a San Benedetto il regolamento sui gazebo in centro. Ancora a San Benedetto pescatori in mare solo due volte a settimana perché la colpa è del caro gasolio. E poi la storia della baby calciatrice insultata, ma io sono più forte dei razzisti. La quindicenne è presa di mira da un papà dell'altra squadra definita da lui mangia banane. Purtroppo c'è un'altra brutta storia che viene dal calcio giovanile. Eccola, intanto eccola qua. Mangia banane, ora ti scolorisco, insulti razzisti e minaccia la baby calciatrice e la squadra piange. C'è un altro episodio purtroppo che non fa rima certamente con la bellezza dello sport. Intanto eccola qua. Ogni santi al mare, guardate questi fisicacci a Pesaro. Ecco chi ha fatto il bagno. In zona Ascoli un derby tra ragazzini, purtroppo non è più in primissimo piano, un derby tra ragazzini, tra allievi, quindi 14-15 anni, è finito in rissa. Confermo quello che vi dicevo. La regione Abruzzo stanzia 3 milioni di euro per il Monte Piselli, dove si fa turismo tutto l'anno. La cabinovia ora è più vicina. Allora, già che sono a queste notizie, dal sito del Corriere vi porto a Civitanova. Luminari a Civitanova. Forza Italia chiede al sindaco sobrietà e accortezza. In questi giorni vi stiamo raccontando, quasi comune per comune, chi mantiene gli impegni nonostante le difficoltà, chi invece decide di rinunciare a questo o a quell'altro. Per esempio, Pesaro rinuncia alla pista di pattinaggio, così Porto San Giorgio, Ancona no. C'era un messaggio, a proposito purtroppo della vicenda della ragazzina, della baby calciatrice insultata, un messaggio che ci diceva, gli animali ci insegnano, guarda questo video, eccolo qua. C'è un cagnolino nero e uno bianco che si coccolano, quello nero che sembra effettivamente lavare, lavare quello bianco che se la gode, insomma, il messaggio si completava, dovremmo imparare dagli animali, gli animali sono più umani di noi. Sono, sinceramente, sono d'accordo, guardate qua, è veramente carino. Complimenti, grazie perché mi avete fatto notare questo video, mi era sfuggito, lo trovate anche su Twitter. 3493989, fatemi salutare rapidissimamente chi ci sta seguendo. Anche dalla diretta Facebook, in questo giorno in cui, come sempre, ricordiamo i nostri cari defunti, buongiorno a tutti e buongiorno a Maurizio. Grazie Renato, grazie Ilva, grazie Carla, che ci segue appunto proprio da Civitanova, grazie Carlo Tamburini. A proposito del ricordo dei cari estinti, i rincari pazzeschi, noi abbiamo fatto un giro con la nostra Linda Cittadini. Il momento è quello che è, però è i fiori, ha un pensiero, non si rinuncia. No, mai, decisamente mai, almeno una volta all'anno. Io prendo le margherite, quelle lì, se no, e il ilium, però, capito, non è che vado su quelli più cari, perché intanto basta il pensiero. Al pensiero non si rinuncia, specie nei giorni dedicati al ricordo dei defunti, ma i rincari si fanno sentire anche qui, nonostante il tripudio di profumi e colori che accompagna il gesto gentile di andare a visitare le tombe di chi non c'è più. Secondo la Coldiretti Marchi, l'inflazione e i rincari energetici si fanno sentire anche in questo settore. Dai dati SME alla vigilia del Ponte di Ogni Santi, elaborati dall'Associazione degli Agricoltori, il prezzo medio dei crisantemi è cresciuto del 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre sono più contenuti gli aumenti su gerbere e garofani, ad esempio. I fiorai comunque cercano di mantenere a bada i prezzi e spesso le persone acquistano mazzi più piccoli e contenuti. Stanno molto più attento, sì, sì. Se l'anno scorso prendeva dei fiori più gustosi, quest'anno sono un po' più quelli economici. E quindi quali fiori vanno per la maggiore? Mazzetteria, mazzetteria, perché con un mazzo ci sono tanti rametti e si accontentano da farli più piccoli, però riempie di più. Molte cose sono mancate o perlomeno ce ne sono meno quantità. A causa della siccità? A causa della siccità e dei rincari, perché gli altri anturium, per esempio, che costa 5-6 euro di più ogni scatola, confronta prima anche e anche, e abbiamo evitato perché quando un fiorate viene 5-6 euro la gente preferisce prendere un mazzo. E anturium e orchidee, l'anno scorso ce ne avevamo tantissime e quest'anno orchidee, queste grandi, se ne prende pochissime. Se ne prende meno perché la gente quando deve mettere 20 euro su un vaso, anche se dura, però prende la roba da 5-6 euro. Il cimitero oramai è orvito, la gente ci va, però ci dispiace a noi perché non si può neanche rincaricare quello che uno dovrebbe. I crisantemi per primo, poi tutto, tutto insieme è tutto. E questo sul fronte dei fiori, ditelo con un fiore, vi ricordo quando donate un fiore non regalate un fiore, regalate la vita di quel fiore. Diversi messaggi su questa notizia, ancora notizie e informazioni locali. Sant'Elpidio Amare, aggredita dai pitbull, salvata appena in tempo, una signora che passeggiava tranquillamente con un cagnolino, resta ferita i soccorsi grazie a tre automobilisti, e li voglio citare, che si sono fermati e l'hanno aiutata. Tre automobilisti, saluto intanto Patrizia che ci sta seguendo, tre automobilisti hanno salvato una signora e il suo cagnolino che erano stati aggrediti da quattro pitbull. L'episodio si è verificato lunedì sera in centro, secondo le prime ricostruzioni, un'anziana signora era spassa col suo cagnolino quando intorno alle 18 è stata improvvisamente assalita da quattro pitbull che probabilmente erano sfuggiti al controllo del proprietario. Sono stati attimi di terrore con la donna che ha prontamente chiesto aiuto, fortunatamente si sono subito fermati, uno dopo l'altro, tre automobilisti che erano lì di passaggio e fermare un cane pitbull non è cosa da poco, è stato un gesto di grande coraggio. Buongiorno Patrizia, la dinamica, hanno prima riparato la signora facendole scudo, veramente coraggiosi, poi sono riusciti in qualche modo a difendersi e a far fronte all'aggressività dei cani. Un intervento tempestivo che molto probabilmente ha evitato conseguenze ben peggiori sia al cagnolino, che poteva finire molto male, che alla proprietaria. La signora comunque è stata zannata, ad una mano cercava di difendere il suo cagnolino, per lei è stato necessario sottoporsi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Fermo. Tra poco vi porto al reintegro dei sanitari Novax, perché possono tornare a lavorare nelle Marche, in Emilia Romagna, in tutta Italia. Ve ne parlerò, però prima c'era una battuta molto carina, a mio modesto parere. Ecco qua, stiamo parlando delle festività, dei morti, dei santi. Allora mi mandano questa foto, la didascalia è tutti i santi in una foto. Quando prepari il caffè la mattina, sei stanco, hai bisogno di partire, di switchare. Fai il caffè caldo, boll e già te lo senti così in bocca e tra le vene e tra le arterie e invece ti si versa. Ecco allora, tutti i santi in una foto, molto carina questa battuta. 3493918169, vi porto ora a Pesaro e al Pesarese. Eccala, Novax, reintegrati sanitari, ma le cause andranno avanti. Su questo molti stanno commentando, chi dice ok, chi dice invece che non c'è rispetto verso coloro che hanno deciso di vaccinarsi. Parlo dei sanitari, dei colleghi. Novax, reintegrati sanitari, sospesi. Le denunce non si fermeranno. Ricorsi, risarcimenti, più di 30 i casi che le avvocate Perricci e Giampaoli stanno seguendo. Fine dell'obbligo vaccinale Covid per il personale sanitario. In attesa delle lettere di reintegro di medici infermieri os sospesi, gli avvocati stanno ricevendo decine di chiamate. Il tema è univoco. La richiesta di riavere indietro le mensilità perse e i risarcimenti per danni morali. Quei medici che si sono vaccinati, che hanno anche affrontato il rischio, sono andati a lavorare sul fronte in quei giorni terribili, si trovano di fronte chi ha deciso di non vaccinarsi e quindi è rimasto a casa, ha deciso di non avere lo stipendio. Ma adesso quelle persone che verranno reintegrate, i non vaccinati, preferisco chiamarli non vaccinati piuttosto che no vax, comunque i medici non vaccinati, faranno causa allo Stato e quindi anche a noi e quindi anche ai colleghi che invece si sono vaccinati indirettamente per avere i soldi dello stipendio che era stato congelato. Faranno causa allo Stato. Rivogliono gli stipendi arretrati, i medici che non si sono vaccinati. Rivogliono gli stipendi che erano congelati. Che cosa ne pensate? Saluto intanto Roberta, fateci sapere 349 39 18 169. I cani insegnano molto, questi sono i miei, ci scrive Luciana, vediamo un po' se riesco a scaricare, è vero che spesso i cani sono più umani degli umani. C'è una foto, eccola là, come si chiamano questi? Beh, quattro, quattro cuccioloni che sono cocker, sono cocker, fateci sapere. E grazie intanto. Ancora notizie locali, faccio in tempo a ricordarvi, a ricordarvi che oggi è bello e bello sarà. Anche domani, guardate per esempio Cingoli, eh? Malaria cambia, la situazione volge al termine. Questa bolla strana di anticiclone lascerà spazio. Già da venerdì ha un crollo netto delle temperature, intanto provo a togliere un po' di pubblicità di mezzo ma è difficile. Crollo delle temperature di 6-7 gradi anche, pioggia venerdì 4, sabato 5 e domenica. E anche domenica cambiamento, pioggia su almeno quattro regioni, regione Marche compresa. Venerdì, sabato e domenica ci prende la misura, pioverà. 3, 4, 9, 3, 9, 8, 9, 7. Grazie Patrizia, grazie Michela, grazie Ilva. Fatemi dare un velocissimo, rapido riepilogo delle notizie principali. Macerata, Marco Simonacci, morto in Spagna. Il figlio racconta, lo avevamo sentito poco prima, voleva da tanto questo viaggio. Un malore per lui. Pomeriggio di terrore, ve l'abbiamo raccontato, una signora a spasso col cagnolino aggredita da quattro pitbull. Il pesce che resta come prezzi non alle stelle, ma di conseguenza i pescatori che decidono di uscire solo due volte a settimana perché altrimenti non ci rientrano. A proposito di rientri, Novax, reintegrati, sanitari sospesi, ora chiederanno indietro i soldi e anche i danni morali. Lacrime poi ad Ancona per Franco Borghi, pioniere del basket, anconetano e architetto con la passione della poesia. Mi fermo, ma vi ricordo che sul fronte delle bollette cosa fa il governo? Era il primo provvedimento, ecco l'ipotesi è quella di un aiuto, un atantum come aveva fatto Draghi, 150-200 euro. Si deciderà venerdì, grazie, state con noi. La ricostruzione è il futuro delle aree interne, per il sesto anno torniamo in onda con Sibilla, le voci della ricostruzione, una luce che mai si è spenta dopo il terremoto del 2016 che ha investito.